E c'è stata l'udienza conclusiva del processo in appello per tentare di dare voce a 9.000 firmatari di un progetto di legge di iniziativa popolare per la salvezza di mestre di Venezia. L'ultima udienza prima della sentenza definitiva con cui il Consiglio di Stato deciderà sulla querelle tra autonomisti e comune di Venezia dopo il ricorso presentato dai fautori della separazione contro la sentenza del Tar che la scorsa estate aveva affossato il voto indetto dalla regione per il 30 settembre. Gli autonomisti si battono per ribaltare l'esito di primo grado concentrandosi soprattutto su un punto. La sioma sostenuta da città metropolitana e comune di Venezia per cui il peso demografico è sostanziale per Venezia non è assolutamente vero. Venezia è Venezia e la città metropolitana si chiama Venezia per la sua valenza culturale e storica e non sicuramente per il peso demografico. Tra due mesi dunque si deciderà il da fare. Se la sentenza sarà positiva ci attiveremo e credo che questa volta il referendum passerà anche perché la politica ha dimostrato di non sapere governare due realtà così diverse. La specificità di Venezia e l'autonomia di Mestre che è stata negata sin dal tempo del fascismo. Se invece sarà negativa? Se invece sarà negativa solo un'iniziativa politica potrà permettere la divisione del comune e quindi ci candideremo alle elezioni e le vinceremo.